Grazie. Grazie a tutti. Intanto il tema della conferenza è saggezza e relazione con l'altro. È stata la fondazione chiedermi questo titolo e io apprezzo moltissimo perché ha colto due dei principi fondamentali del confucianesimo. L'enfasi sulla saggezza, e vedremo che ci sono vari tipi di saggezza nel confucianesimo, e l'enfasi nella relazione con l'altro. È anche uno dei punti forti del confucianesimo, del pensiero di Confucio. Per capire il pensiero di Confucio dovremmo liberarci di alcune categorie concettuali. Confucianesimo cos'è? Etica, religione. Non esisteva la parola religione in Cina fino al XX secolo, quando fu introdotta dall'Occidente attraverso il Giappone. La parola cinese per religione è tzunjiao, che vuol dire appunto religione, ma nella fattispecie vuol dire insegnamento degli antenati. Perché l'unica forma di religione che concepivano i cinesi, anticamente, era il culto degli antenati. Perché questo? Perché era molto importante, nella cultura cinese in particolare, quella confuciana ma anche pre-confuciana, la famiglia. La famiglia come nucleo della società, la famiglia come nucleo del cosmo. Quindi l'unica vera forma di culto osservata da tutti i cinesi, anche nella Cina contemporanea, è il culto degli antenati. In tutte le case cinesi c'è un altare con appunto le raffigurazioni degli antenati e i cinesi offrono i sacrifici agli antenati. Quindi confucianesimo è uno studioso, un sinologo americano l'ha definito un'invenzione. Perché un'invenzione? Innanzitutto perché non era una religione, in secondo luogo perché il nome confucio non esiste, ma è la traslitterazione in latino di Kung Fu Tzu, che vuol dire maestro Kung. E quindi sono stati gesuiti, e in particolare gesuiti italiani, a introdurre il nome confucio e confucianesimo nella tradizione occidentale. E poi vi farò vedere anche qualcosa sulle traduzioni in latino dei testi confuciani. Noi conosciamo il pensiero di Confucio attraverso varie opere e in particolare attraverso, come diceva il professore, attraverso i dialoghi. Cioè è questo libro ed è una raccolta di massime aforismi scritte presumibilmente dai discepoli di Confucio. Io vi leggerò alcuni passi relativi ai due temi della saggezza e relazione con l'altro. Innanzitutto vi è uno dei passi che racchiude entrambi i concetti, benevolenza e saggezza. Vi leggo il passo. Tsugum domandò, Tsugum è uno dei discepoli preferiti di Confucio, che cosa pensate di chi si prodiga per gli altri e riesce ad aiutare la gente? Può essere considerato un uomo di benevolenza? Il maestro rispose, perché limitarsi alla benevolenza? Costui è certamente un saggio. Quindi l'amore verso gli altri, la benevolenza in cinese si dice zhen, e il primo passo verso la saggezza. E benevolenza è uno dei caratteri cinesi che ricorre di più nei dialoghi di Confucio. Quindi Confucio e i suoi discepoli parlano tantissimo di benevolenza all'interno dei dialoghi di Confucio. Il professore diceva giustamente che il confucianesimo è innanzitutto uno strumento di organizzazione e di egemonia, uno strumento a servizio del potere. E questo è vero, ed è vero anche nella Cina contemporanea, tant'è che uno dei principi fondamentali del confucianesimo è il rispetto della gerarchia e dei ruoli, sia in ambito familiare che in ambito sociale. Ecco, Confucio, forse questo lo sapete, vive in questo periodo, tra il VI e il V secolo a.C. e viene definito un ru, o appartenente alla cosiddetta scuola dei ru gia. In realtà, quindi, non esisteva la parola confucianesimo, come vedete. Esisteva una classe chiamata ru gia che significava letterati, erano i letterati di quell'epoca, che propugnavano appunto il pensiero di Confucio. ed era proveniente, servì come funzionario a Ciufu, nello Stato di Lumpi, con lo staterello nello Shandong, non lontano da Pechino. Chi era? Era un letterato, ma era soprattutto un funzionario. Questo era il ruolo che svolgeva. Da qui capite come in Cina, anche nella Cina contemporanea e nel corso dei secoli, il ruolo del letterato, dell'accademico, è sempre stato associato a quello del politico. Cioè, la classe politica, non come in Italia, era costituita da scholars, da letterati. E viveva in questo periodo conosciuto come primavere e autunni. Primavere e autunni è un modo per indicare gli annali di corte. Il susseguirsi delle primavere e degli autunni. E da qui capite anche la concezione circolare del tempo cinese. Il tempo è scandito dalla successione delle stagioni. E quindi, all'epoca di Confucio, VI-V secolo a.C., non esistevano scuole di pensiero, esistevano, diciamo, degli orientamenti di pensiero. E solo più tardi, a partire del II secolo a.C., quando la Cina viene unificata, III-II secolo a.C., sotto un unico impero, vengono stabilite delle scuole di pensiero, e in particolare queste. La scuola Yin-Yang, che si basava sulla comprensione dei principi della natura, in particolare dell'avvicendamento ciclico dei principi Yin e Yang, che forse avete visti rappresentati nel Tao. Zhu sono i seguaci di Confucio, edotti nei riti e nella cultura dei saggi dell'epoca Aurea, e questa è la definizione che danno gli storiografi. Muozi, il pensiero appunto del filosofo, filosofo, pensatore Muozi. I Ming-Zia è la scuola dei nomi. Fa-Zia è la scuola della legge, che viene adottata dal primo impero cinese, dalla dinastia Qing, in contraposizione al confucianesimo. E infine Tao-Zia, che è la scuola di Laozi, taoista. Quindi queste scuole vengono codificate soltanto con l'unificazione imperiale. Ecco, qui vi faccio vedere come A-Chu-Fu si celebra ogni anno, in occasione dell'anniversario di Confucio, si celebrano dei riti. Questo per farvi capire come vi sia uno spirito religioso nel confucianesimo. Il confucianesimo diviene qualcosa di simile ad una religione quando? Quando una religione per la prima volta viene introdotta in Cina. E questa religione viene dall'India, è il buddismo. Quindi nel momento in cui il buddismo viene introdotto in Cina, anche la figura di Confucio, così come quella di Laozi, viene divinizzata e viene associata ad una divinità. Ma fino a quel momento, e stiamo parlando del terzo secolo, secondo terzo secolo dopo Cristo, secondo la tradizione, tutto ciò non esiste. E il confucianesimo è un'etica. Ciò nonostante esistevano i riti. I riti erano molto importanti nel confucianesimo, ma erano riti sociali più che ispirati a una divinità. E poi vedremo come si sviluppa in Cina, con l'epoca imperiale, piuttosto che una religione e un'idea di divinità, una cosmologia, legata appunto alla fondazione dell'impero. Quindi, vedete, questo era nel 2014. Ogni anno si svolgono questi riti, verso la fine dell'anno. Questo è Chufu, nel 2014. E vi assicuro che io ero lì quell'anno e non è una cerimonia, è una cerimonia pubblica, frequentata prevalentemente dai cinesi. I cinesi vengono da varie parti della Cina per rendere omaggio a Confucio. Principi importanti legati al concetto di saggezza e di benevolenza e di rapporto con l'altro sono lo studio, l'amicizia e l'umiltà. Il maestro disse, qui cito ancora i dialoghi, studiare e praticare costantemente quanto appreso non è forse un diletto? Accogliere compagni provenienti da luoghi lontani non è una gioia? Non è forse uomo nobile d'animo chi non si preoccupa se nessuno lo conosce? Cioè, Confucio dice, non è importante che gli altri conoscano te, è importante che sia tu a conoscere gli altri. Quindi, modestia, umiltà. Lo studio, la riflessione e applicare quanto si è appreso. E poi, l'amicizia. Accanto alla famiglia il valore più alto, il valore sociale più alto è quello dell'amicizia. E questo è un principio che ritroviamo ancora oggi nella società cinese. Se qualcuno ha avuto modo di andare in Cina avrete sicuramente notato la grande ospitalità che riservano i cinesi a chi viene da lontano e agli amici. E come vi dicevo, accanto allo studio la riflessione. Studiare senza riflettere vano, riflettere senza studiare è pericoloso. C'è un bellissimo libro di Herbert Fingeret su Confucio in cui Fingeret è tradotto in italiano. Dice che le massime di Confucio non si applicano soltanto al confucianesimo ma sono universali. Quindi non sono soltanto filosofia cinese ma è una filosofia che può essere applicata al pensiero di qualsiasi essere umano. E questo è un altro passo interessante dei dialoghi in cui Confucio o i suoi discepoli sottolineano l'importanza della socialità della socializzazione e che da qualsiasi rapporto con l'altro si possa trarre un beneficio e da chiunque si possa trarre degli insegnamenti. E dice se camminassimo se viaggiassimo in tre certamente avrei sempre un maestro accanto dall'uno coglierei pregi per tranne esempio dall'altro coglierei difetti per emendarmi. Quindi in qualsiasi caso il rapporto con l'altro porta dei benefici a qualsiasi individuo. E poi i riti come vi dicevo un uomo privo di benevolenza che relazione può avere con le antiche norme rituali un uomo privo di benevolenza che relazione può avere con la musica quindi è necessario essere dotati di benevolenza e benevolenza non è necessariamente un dono della natura ma è qualcosa che si costruisce attraverso l'esercizio quotidiano la pratica interiore e la pratica della socialità appunto attraverso i rapporti con gli altri e ciò è anche un rito quindi i riti sono importanti perché perché la ripetizione dei riti induce la riflessione la meditazione quindi praticare i riti nell'antica Cina era molto importante ed è importante anche oggi riti e musica riti musica e recitazione delle odi qui siamo sempre a Ciufu nel paese di Confucio e qui vedete queste tavolette sono riservate agli antenati e a Confucio come l'antenato per eccellenza ecco chi scoprì Confucio per primo furono i gesuiti ovviamente sapete di Matteo Ricci che però ha lasciato una tradizione una traduzione in latino la cui non siamo certi che sia stato Matteo Ricci probabilmente sì il manoscritto esiste in Italia ma chi tradusse i quattro testi canonici Confuciani fu il gesuita siciliano in Torcetta che si espresse così sul Confucianesimo tutta l'attenzione e la dottrina del filosofo mirava in primo luogo a riportare la primitiva luce e integrità della quale affermava il cielo l'aveva dotata la natura oscurata dalle tenebre dell'ignoranza e depravata dei vizi da ciò sarebbe conseguito un governo clemente ed equo di ogni cosa e una situazione felice assolutamente tranquilla per l'impero quindi i gesuiti avevano capito l'importanza l'importanza dei classici Confuciani per la coltivazione del sé della propria spiritualità ecco perché scelsero il Confucianesimo come corrente di pensiero per introdurre il Cristianesimo e poi come l'arte del governo quindi Confucianesimo era coltivazione del sé e anche arte del governo i cinesi avevano utilizzato questa corrente di pensiero in questo modo e i gesuiti quando giunsero in Cina inizialmente Matteo Ricci e Ruggeri adottarono il buddismo per introdurre i concetti del Cristianesimo ritenendo che quella fosse la religione più simile al Cristianesimo e solo in una seconda fase quando compresero a fondo la cultura cinese capirono che invece il Confucianesimo era più simile al Cristianesimo tant'è che nei dialoghi vi è l'espressione di una regola aurea molto simile alla nostra non fare all'alto quel che non vorresti fosse fatto a te quindi ebbero questa intuizione e dismisero le vesti da bonzo buddista e si vestirono da mandarino a cinese ecco cosa dice ancora in torcetta per raggiungere con più sicurezza questo scopo voleva che ciascuno il soggetto è Confucio Qin Tian obbedisse al cielo lo temesse e lo onorasse Ai Ren amasse il popolo come se stesso e qui già nel primo enunciato vedete che i gesuiti travisarono portarono volutamente il messaggio confuciano e parlano di cielo obbedire al cielo in realtà c'è un concetto di cielo ma non necessariamente identificato con una divinità con Dio amasse il popolo come se stesso aveva colto in torcetta la regola aurea nei dialoghi di Confucio e da questo passo invece capite la sequenza il passaggio dall'auto perfezionamento interiore fino al governo del popolo gli uomini dell'antichità che desideravano che l'eccellenza morale risplendesse in tutto il mondo dapprima si occuparono di governare il proprio stato desiderando governare il proprio stato stabilirono l'armonia nelle loro famiglie desiderando stabilire l'armonia nelle loro famiglie dapprima coltivarono la propria interiorità desiderando coltivare la propria interiorità dapprima resero autentiche le proprie intenzioni rendere autentiche le proprie intenzioni cosa vuol dire lo spiega in un altro in un'altra opera lo spiegano i confuciani in un'altra opera vuol dire essere sinceri con se stessi guardare dentro se stessi e non nascondere i propri sommovimenti interiori quindi si parte dall'interiorità dal proprio io si deve capire chi siamo per poi estendere questa forma di conoscenza alla natura e agli altri quindi l'approfondimento della conoscenza dipende dall'investigazione dei fenomeni dell'universo quindi partendo da se stessi cercando di capire i moti del nostro animo noi siamo così in grado di capire anche gli altri perché siamo simili agli altri e da qui comprendere anche la natura e qui vedete il nesso tra uomo famiglia in questo passo uomo famiglia società cosmo se ne desume che il senso della gerarchia e dell'ordine trae origine dall'individuo dalla famiglia dalla società l'importanza e questo è uno dei principi fondamentali del confucianesimo ma direi di tutta la cultura cinese il perfezionamento del sé ovvero l'educazione morale dell'individuo nel corso del tempo si è pensato che confucianesimo taoismo buddismo fossero in antagonismo tra loro prima confucianesimo e taoismo sono le due culture autoctone della Cina l'una è più un'etica l'altra privilegia il rapporto con la natura piuttosto che con l'altro il rapporto sociale il taoismo privilegia il rapporto con la natura in realtà si compenetrano non sono in antagonismo non sono due correnti di pensiero opposte benché siano state descritte nel corso del tempo così quindi capite l'importanza del perfezionamento della propria interiorità e da qui si arriva a capire l'altro a forgiare l'uomo e questo passo è un po' ambiguo ed è un passo del che è la costante pratica del giusto mezzo uno dei classici del confucianesimo la via non è mai lontana dall'uomo se si ritiene che la via sia lontana dall'uomo non si tratta della via recita l'ode nel forgiare il manico di un'ascia con un'ascia il modello non è lontano se brandiamo il manico di un'ascia per forgiare il manico di un'altra ascia e poi le osserviamo da lontano le due asce ci appariranno distinte questo significa è una metafora per dire che gli uomini sono molto simili e l'uno forgia l'altro nel rapporto fra uomini l'uno forgia l'altro e se ricordate il passo di prima quando tre uomini camminano insieme l'uno apprende dall'altro capite anche il senso di questo passo ma alla fine le persone sono distinte benché simili sono distinte e quando parla di forgiare l'uomo il significato è duplice forgiare se stesso migliorare se stessi ma forgiare anche chi ti sta vicino l'altro così l'uomo nobile d'animo governa l'uomo predendo a modello l'uomo e quando l'avrà rettificato si arresterà e poi questo testo menziona due principi lealtà ed empatia lealtà verso i superiori e anche i propri simili ed empatia cioè la capacità di capire l'altro e comportarsi a beneficio dell'altro cercare di capire cosa la persona che sta accanto a te desidera questo è un principio molto importante nel confucianesimo anche oggi e quindi è qui la regola aurea non imporre agli altri quel che non desideri per te ecco quello che dicevamo prima che i classici confuciani e l'etica confuciana vennero idealizzati e divennero dei veicoli per eccellenza per il buon governo quindi il buon governo parte dalla coltivazione del sé della coltivazione dei rapporti all'interno della famiglia rispettando la gerarchia quindi i rapporti all'interno della famiglia sono gerarchici e la famiglia è la cellula della società quando il confucianesimo viene sistematizzato siamo in epoca imperiale ed in particolare con uno degli imperatori più importanti della storia cinese che è l'imperatore Wu della dinastia Han ed è l'imperatore che più ha esteso il suo dominio verso occidente verso le terre occupate dai cosiddetti sciunno o barbari e il suo fu un governo caratterizzato anche da stabilità interna e sotto il regno dell'imperatore Wu Ti nasce il confucianesimo come sistema di pensiero che è anche come ideologia di corte e uno dei pensatori più importanti fu Tung Chung Su fu lui a sistematizzare il confucianesimo il confucianesimo cambia in questo momento perché perché l'impero unificato sente l'esigenza di inglobare nel confucianesimo anche le altre correnti di pensiero e quindi il confucianesimo diventa un'ideologia dominante che cerca di controllare anche altre altre culture le culture non solo Han ma di tutta la Cina di tutto l'impero cinese questo per una questione di controllo politico dell'impero e quindi nascono sotto l'imperatore Han Wuti i cinque classici che sono il classico dei multamenti le odi i documenti lo Shang Shu o Shu Jing il libro dei documenti il Li Ji il libro dei riti e gli annali primaveri e autunni testi che vengono attribuiti a confucian e che vengono sistematizzati in questo periodo e vengono connotati come confuciani benché non siano soltanto confuciani come dicevo prima per capire l'importanza del confucianesimo dovete sapere che questi testi furono commentati nel corso dei secoli quindi ogni dinastia aveva i propri classici ogni dinastia aveva i propri classici commentati e i commentatori gli esegeti erano accademici che avevano allora subito le influenze delle nuove correnti di pensiero e anche del buddismo ad esempio quindi era un confucianesimo molto diverso in epoca imperiale i cinque classici in epoca Han e le ai cinque classici corrispondono gli o i che sono le sei arti o le sei discipline attribuite al confucianesimo che sono appunto i riti la musica la scrittura la matematica il tiro con l'arco e la guida del carro i wujin sono i cinque classici che vengono stabiliti viene stabilita l'edizione imperiale quindi l'edizione ufficiale nel 136 avanti Cristo e l'imperatore crea un'accademia imperiale nel 124 avanti Cristo quindi c'erano degli accademici che erano anche funzionari di corte erano appunto dei burocrati letterati che commentavano e studiavano i cinque classici le virtù più importanti zhen e l'umanità a cui faceva riferimento anche il professore o benevolenza e vedete il carattere è composto di due parti la parte di sinistra qui non riuscite a vederlo però la parte di sinistra significa uomo la parte di destra vedete queste due lineette orizzontali vuol dire due in cinese e quindi l'umanità zhen è rappresentata da un carattere che raffigura l'individuo nei confronti della moltitudine dei due degli altri quindi questo simbolicamente rappresenta benevolenza umanità il senso della giustizia che cos'è il senso della giustizia non è la giustizia della legge ma è la giustizia che ognuno di noi sente dentro di sé il senso della giustizia cos'è giusto da un punto di vista etico e umano e quindi i confuciani erano a favore di questo senso di giustizia non della legge ma del senso della giustizia la saggezza i riti e il concetto di sincerità queste quindi erano le virtù cardinali del confucianesimo e lo sono tuttora ecco oggi in Cina vedete questa è una immagine di una scuola in cui si studiano i classici confuciani mentre durante la rivoluzione confuciana la rivoluzione culturale scusate gli anni 60 furono banditi i classici confuciani perché conservatori reazionari a partire dagli anni 80 e soprattutto dagli anni 90 la Cina sta forse lo sapete riscoprendo il valore della cultura anche in modo ossessivo tant'è che sono diventati anche strumento di propaganda politica Xi Jinping menziona moltissimo i classici confuciani perché c'è un po' un ritorno all'epoca imperiale in cui il confucianesimo diventa l'ideologia imperiale di corte o delle regine la logica era assolutamente quella di epoca imperiale i classici divengono sette durante la dinastia Han posteriore e si aggiungono al classico della pietà filiale e i dialoghi di confuciano dopo questo periodo durante gli Han posteriori quindi secondo terzo secolo subentra arriva il buddismo in Cina e con l'arrivo del buddismo ovviamente anche il confucianesimo che continuava ad essere l'ideologia imperante cambia assume anche dei concetti derivanti della tradizione buddista e diventa come buddismo e taoismo una sorta di religione con la figura di confucio che avete visto a Chufu divinizzata confucio è associato a una divinità così come lo è Buddha e lo è Lao quindi i maestri delle varie tradizioni quindi confucianesimo taoismo e buddismo da questo momento in poi diventano le cosiddette tre religioni che sono riconosciute anche oggi dal governo cinese oggi si parla di cinque religioni confucianesimo buddismo taoismo islam e cristianesimo l'epoca sun decimo tredicesimo secolo è un'epoca importante per lo sviluppo del confucianesimo e vengono identificati viene identificata una linea di trasmissione ortodossa del confucianesimo che parte da confucio poi passa ai discepoli cen zi zi e men zi men cio quindi questa viene riconosciuta tra i vari discepoli e seguaci di confucio la linea ortodossa della trasmissione degli insegnamenti confucio e a questi quattro maestri vengono associati questi testi lunghi quindi dialoghi questa raccolta di aforismi il tasce è la grande scienza il jung jung la costante pratica del giusto mezzo è questo testo e il mencio che è il testo più complesso di questi ma quelli che più racchiudono il confucianesimo il pensiero confuciano sono tashe e jung jung non è più il pensiero confuciano primitivo ma è un pensiero confuciano che è assorbito degli elementi dalle altre tradizioni culturali ecco questo è la costante pratica è un libretto molto piccolo questo ed è anche una raccolta di aforismi e qui potrete notare il passaggio dall'etica confuciana alla cosmologia e vedete i gesuiti si cimentarono nella traduzione in latino di questi quattro libri perché i più rappresentativi della cultura cinese e perché ritennero che il pensiero racchiuso in questi testi sapienziali fosse più vicino al cristianesimo e vede questi due caratteri chung yung vedete a destra la traduzione medium constantem tenendum quindi molto vicino al principio aristotelico del giusto mezzo molto simile al principio aristotelico del giusto mezzo e a sinistra vedete la pronuncia traslitterata dai gesuiti chung yung in realtà si legge chung yung quindi divenne per i gesuiti un esercizio di traduzione per insegnare il pensiero cinese ma anche per apprendere la lingua quindi trascrivevano i caratteri cinesi trascrivevano con l'aiuto dei letterati cinesi la pronuncia imparavano i caratteri e traducevano quindi imparavano il significato dovete immaginare che la lingua cinese non ha una forma alfabetica e quindi tutto è affidato alla memorizzazione di caratteri non c'è altro modo per imparare questa lingua ecco cosa disse ai lettori Prospero in Torcetto parlando appunto della costante pratica del giusto mezzo non voglio nemmeno parlare qui dell'utilità dell'operetta del vantaggio spirituale dell'aumentato prestigio che deriva dalla conoscenza di questa e delle altre opere di Confucio al predicatore che coltiva la vigna di Cristo in Cina ecco da qui potete capire quanto tenevano in alta stima i gesuiti i volumi i testi attribuiti a Confucio e i suoi seguaci e continua e se i nostri predecessori non avessero avvertito quale grande frutto potesse prodursi dall'uso di quest'opera si può forse pensare che avrebbero voluto imporre a sé i posteri opera tanto onerosa qual la traduzione senza alcun vantaggio per le anime e qui è la sua traduzione della regola aurea The Golden Rule che recita chi con impegno e sincerità giudica gli altri secondo il proprio metro non è lontano dalla regola questo è infatti ciò che uno non vuole sia fatto a sé ugualmente non lo faccia agli altri questa è la traduzione dal latino di Intorcetta che fu effettuata da Beonio Brocchieri professore di filosofia asiatica orientale quindi tornando alla virtù un'altra forma di virtù si chiama The che vuol dire forza morale carisma consapevolezza del sé e dell'altro e questa forma di virtù è quella che accompagna il buon sovrano che è capace di comprendere il mondo circostante e governarlo attraverso la coltivazione della propria interiorità lo sviluppo dell'abilità di comprendere l'uomo e l'ambiente circostante la capacità di governare ed esercitare il potere tramite la cultura ecco vedete questo è in sintesi il valore che gli intellettuali governanti cinesi danno alla cultura è attraverso la cultura che si governa l'uomo e questo vi fa anche capire perché il governo attuale ha recuperato il valore della cultura perché è l'unico strumento di moral suasion anche all'interno di un paese così grande come la Cina soprattutto perché uno dei principi fondamentali del confucianesimo è il rispetto delle gerarchie confucio dice chi governa tramite l'eccellenza morale può essere paragonato alla stella polare fissa il suo posto e tutte le stelle attorno che le rendono omaggio questo vi fa capire che ciò che importa nel governo non è tanto l'autorità quanto l'autorevolezza di chi governa i conseguimenti morali e spirituali dell'uomo non dipendono dalla fortuna da agenti esterni o da formule esoteriche ma dalla coltivazione delle risorse che ognuno di noi ha dentro di sé e questo vi fa comprendere perché i cinesi fondamentalmente sono atei perché non si affidano all'aldilà o all'idea di un paradiso dopo la morte benché ce l'abbiano ma il paradiso della cultura cinese non è altro che la continuazione della vita è speculare alla vita tant'è che se qualcuno di voi ha avuto la fortuna di vedere l'esercito di terracotta del primo imperatore cinese Qin Shi Huangti a Xi'an il paradiso è la riproduzione di questo mondo di questo mondo terrestre quindi per i cinesi l'aldilà è il prolungamento di questa vita è l'immortalità la longevità questo è l'aldilà quindi il D è la forza morale che dovrebbe avere ogni sovrano è un dono del cielo ma inteso come natura non come divinità ed è qualcosa che promana da noi stessi questo è un passo che troviamo sempre nei dialoghi di Confucio il maestro non parlava mai di eventi straordinari dell'uso della forza di disordini e di spiriti o divinità questo non perché non credesse fondamentalmente a delle forme spirituali perché appunto esisteva il culto degli antenati ma perché riteneva che l'uomo non dovesse soffermarsi a parlare di questo ma parlare appunto della vita quotidiana e dedicarsi a ciò che è giusto per il popolo manifestando riferenza per gli spiriti pur tenendoli a debita distanza quindi Confucio dice non ci dobbiamo occupare degli spiriti perché? perché se non sai servire gli uomini come puoi pensare di servire divinità e spiriti quindi il confucianesimo pone l'uomo al centro della propria riflessione e della propria speculazione un'altra forma di saggezza e io ho scritto santità o saggezza perché viene tradotto questo carattere Shen che è la saggezza dei sovrani dell'antichità quindi dei sovrani mitologici sia con santità i gesuiti lo tradussero con santità che con saggezza perché era una peculiarità soltanto dei saggi sovrani dell'antichità che erano identificati come delle divinità infine un'altra forma di saggezza che è Xian che è accessibile a chiunque ecco e concludo con questo concetto che sempre vi fa capire quanto sia importante la relazione con l'altro Xian Xian che è il secondo carattere è costituito da una porta e all'interno della porta c'è il sole ed è simbolicamente rappresenta lo spazio tra questa porta e la luce questo spazio è ciò che intercorre tra me e voi è lo spazio vuoto che però per il cinese è uno spazio pieno uno spazio da riempire attraverso le relazioni umane attraverso ciò che gli uomini sanno comunicare tra di loro questo significa che per il confucianesimo per l'uomo l'etica cinese non è importante l'individualità è importante l'altro ed è importante ciò che si stabilisce tra me e tre tra i due uomini e quindi l'individuo può cambiare a seconda delle circostanze non so se sono stata chiara cioè ciò che importa non è la propria individualità lavorare per se stessi ma lavorare nella relazione con gli altri e quindi è lo spazio che noi riempiamo con il nostro rapporto con la nostra presenza prodigarsi per gli altri quindi persino uomini come Yao e Shun avrebbero trovato arduo un simile compito l'uomo dotato di benevolenza desiderando essere saldo fa sì che lo siano gli altri desiderando progredire fa sì che gli altri progrediscano assumi come esempio quel che puoi fare per chi ti è vicino e la strada verso la benevolenza ecco questa è la formulazione positiva della regola aurea non fare agli altri quel che non vorresti per te stesso e la formulazione positiva è fai per gli altri quello che vorresti per te stesso e questa è la strada per arrivare alla benevolenza grazie 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 grazie